Io voglio dire in pieno la sua riflessione sullo posto che è un cavallo di battaglie importanti e anche per noi è stato importante di cercare la sua protesta e il suo recano perché onestamente devo dire che condivido la necessità che la previsione innovativa possa essere nuovamente riancola. Le condivido le finalità e credo che possa anche contribuire a obiettivi di maggiore grassarezza. Mi avrò incerte e comprende anche un po' il mio brazo, la decisione che era assente da un esecutivo precedente a quest'ultimo che ci ha onorevolmente rappresentato e vedremo adesso che con una nuova legislatura potremmo ripresentare questa disposizione normativa e riproporla per la sua proposta. La ringrazio. Grazie, sto muovendomi per il lavoro Rossi ma credo che siano stati così bravi.